Ciao, ti lascia i tuoi affari Volendo ti lascia anche lo scherzo, ma non lo fai Ti ammazzo Ti posso picchiare, ecco la mia statuetta Ragazzi, abbiamo le bellissime statuette Ci sono di tutti Dovevo aprire Bellissimo Ok, aspetta che esco No, l'hai piazzata male Piazza la giusta Va bene Porco Dammi la porta Ti sporto io Dammi la porta Tagliti, tagliti, la metto io Ah, e adesso come esco? E tu non esci finché non mi rimetti a posto il legno, è diverso No, va bene Adesso è mio Tu, tu, ru, ru Dai, fammi andare a prendere il legno a casa Vabbè, signori, qua è sempre peggio Dov'è la foresta, ecco? Non lo so Perché c'è la via al contrario? Non lo so Dov'è il tonno? Il tonno non lo so Allora L'ultima volta ci siamo lasciati Che cosa abbiamo fatto? Siamo andati in esplorazione, penso, no? Sì Eravamo... Che cosa facciamo oggi, allora? Io volevo continuare l'espulsione, però... Dato che non si può, non lo so Allora, vediamo un po' A casa Abbattiamo a casa di Tommy, non lo so Spawner palmi Dai, ma perché? Ah, ma io ti sparo in gola Ecco, toco, ho il... 3000 blocchi, Ramond Metti a posto No, la mia ascia Fuori Passetta Ah, guarda che cos'ho io Io ho la cana da pesca Con la coppe, sì È troppo tempo che non gioco a Minecraft, ragazzi In questi giorni mi è toccato Potendo programmare un intero mondo E niente Vabbè, va Allora Guarda Io, ragazzi, sono speciale Quindi posso craftare Ho il sicchio di Call of Duty Io quello... Guarda, io ce l'ho Ah, sì, ce l'ho anch'io E che cos'è il tuo Red Shaper, anch'io Sì Doc, guardi cosa crafto adesso Lei ora vedrà una cosa Ho sbagliato scrivere Ah, ragazzi, cosa ho creato La spada con la Mogas E il Devrock C'è anche Devrock Scusa Verro Vabbè Che cazzo stai facendo? Perché qua c'è il tizio E qua c'è quello Io dopo questa mi intero Doc, ma ha visto che cosa ho creato? Dove cazzo sei? Dove sei? Vieni su Devo farti vedere una cosa in più Se mi devi trovare Cioè, ragazzi Un applauso A me che ho creato tutta la Dexter Praticamente Il Doc ha fatto solo una cosa Ah, sì No, chi è che c'è stato anni Sui modelli Ah, in verità L'ho creata Cioè, tu non mi hai ancora Passato un cazzo Mi hai fatto soltanto i totem È vero Il Doc ha fatto tutti i totem Che bravo Allora Io ho fatto tre modelli Ci ho messo anni Ci ho guardato due tutorial Di quattro ore E hai preso Paint.net Hai messo due colori Adesso io ti metto Due colori Ci ho messo quattro anni Per fare sta roba No, ci ho messo Apri No, Napoli Apero Apri, ho detto Ok, aspetta Apri Posso solo succedere Delle brutte cose Sì, aspetta No, dai Perché mi devi rovinare tutto Adesso io vado a prendere la TNT Te la tiro in casa Ha trovato il nostro Tunnel a casa Ma lo sai che io Aspetta, TNT io Non ti conviene Sai che hai il backup Che sta merda Ciao Ma che cazzo è Basta Bene Aspetta Devo prendere uno di cobblestone Devo rimettere qua uno di cobblestone Perché Ok Mettiamo Sieniti Sì Non avevo Non avevo caldo Grazie Lo stesso Tieni Tiro la pietra addosso Ok E io ti pietro Ah giusto Aspetta Io ti faccio diventare Suss Guarda Non puoi Bello Posso fare una cosa bella Aspetta Eh Eh Che c'è Ma signore Ma un Pecax Cro Ma non lo vogliamo Abbiamo aggiunto anche questo Nella texture di microonde Eh aspetta Però per far vedere Effettivamente Che cosa c'è nella texture di microonde Tolgo la texture di eme Dove l'hai rubato quella roba Doc ha visto? Lo vede il piccone a lei? A me ce l'avevo forse un Pecax Cro Sì ce l'ho in base Me lo rifaccio adesso Sai che una shaders Ci sta bene oggi? Direi Di mettere Com'è che si va rinominato? Perché non mi ricordo Me l'hai dato te l'altra volta Pecax Cro Diamond Pecax Cro Ah No Minecraft ha esploso No Il lagga al server Lagga al server Mannange Però la La The Rocks La The Rocks Suicide Sword È una cosa che è bellissima Dimmi se non ho fatto bene a farla Sì È molto bello Vediamo se esplode Esplode? No Dai Perché ci devo avere le robe rotte? Va bene Ma non va Dai Ma il piccone Scromo Devi scriverlo con l'H Dio Bono Ah giusto E poi con la C in grande Perché è più bello Si scrive però Ce la fai a scrivere due parole? Non mi ricordo come si scrive però C H R O M A Come si fa? Dai Come Si fa Scusa Non lo so È tutto in piccolo Ma che bello Quando è che mettiamo gli ombrellini? Io voglio gli ombrellini Ah doc Non so Io mi sono rifatto Ci ho messo tre ore Ho rifatto tutti i layer Di una cosa molto bella No È pagata Damelo 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 Voglio Perché è rotto tutto Non te lo vorrei Dammi 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 Voglio Perché è rotto? Ah è perché non sai fare Allora hai fatto il modello Ma non hai fatto l'item No l'ho fatto Non hai fatto l'item Te l'ho giusto Guarda una cosa Sai cosa? Soltanto i leggings Non sono buggati Perché non si fa Perché non si fa Perché non si fa Splobere tutta Ah Quando è che me Come si fa l'ombrellino? Guarda I leggings Non sono buggati Bello Come si fa l'ombrello? Quale? Ma No ma sono buggati Sono lei Ma che cazzo? Questa volta hai fatto l'item Ma non il modello Sei fortissimo Ma io li avevo provati Nel mio single player E funzionavano Perché l'hai rotti Vabbè senti Dopo mi aiuterai a fixarli Sì come si fa l'ombrello? Quale ombrello? Ah guarda che cos'ho io Che te non hai Guarda E tu non ci l'hai Questo Sì come si fanno Gli ombrellini custom Quali? Non ce n'è Di ombrellini custom Non lo so Qua siamo su microondi Quindi non lo so E allora che cazzo? Devo andare a recuperare Voglio andare a vedere Voglio andare a vedere come sta Pentola E' morta No Eccola qui Ciao pentola Me l'ha detto Giorgio Vanni Giorgio Vanni Va bene Rockstar Dov'è che sta Il viso di Amy Ombrellini? Allora Doc Dove vorremmo andare? Era un attimo Che c'ho da Di cercare gli ombrelli Perché qualcuno Comunque tu non hai ancora Una casa decente Perché Ah eccolo Aspetta E' una cappella Al contrario Come si fa a lei A mia ombrella? Beh Che palla La tua e la finisco anche adesso Se Se non ci fa niente Se te fai I cavoli tuoi O finisco a casa mia? Ma io vorrei fare qualcosa con lei Ah in realtà a casa mia? So aiutarti a finire a casa tua Sì ok Allora Il design è semplice Basta aggiungere un blocco E usare delle scale Adesso ti faccio vedere Praticamente Qua ci devono venire Dei pali Che raggiungono là in cima Praticamente Adesso faccio vedere Poco la roba E si inizia a costruire tempo Prendi un po' di legno di spruzzo Va bene Allora Questa Faccio così Allora Ah giusto Io ho la mia armatura Ropa Pane Che faccio? Servono i diamanti Per graftare un'ascia Ma questa scusa La lasci qui? Sì Ma di chi è? E' mia Quella vecchia rotta Posso tenerla? No Dai Rimane lì Eh no Fa bellezza Posso unirla con la mia? No Fa bellezza Che bello Io ti Io ti Mettela No posso tenerla? Oppure ti serve? Lasciala lì Ne faccio io una La posso tenere sì o no? Dillo Sì Grazie Ve lo chiedo un'altra volta Perché la mia è mezza rotta Duro Ti picco Facciamo la casa del Doc Allora Per iniziare Ci serve Un pochetto di Perfetto Non ho però Le scarpe da carpentiere Me le vado a fare Ce li ho Dei lapis Dannazione Mi hanno scammato i lapis Ce l'abbiamo? Sì Doc abbiamo anche il derocktopus Nella texture Ha visto? Sì Non ho livelli Quindi Doc mi ha lasciato il culo Allora Dobbiamo fare delle cose Dobbiamo mettere qua No io farei una cosa Questa la lasciamo come zona mistica Qua Allora il bunker con il magazzino Lo finiamo la prossima volta Io qua voglio rifare un altro bunker Però con altre robe Ma Tipo Con sempre dei portali? Non lo so Volevo farlo in chiave moderna Per la prossima volta Magari con un portale Che ti porta alla zona moderna Sempre Così Ah innanzitutto Se noi farei così Farei un bunker Magazzino Moderno E smantellere Scusa Però ti ho visto andare di là Ma what Andiamo a raccogliere un po' di legno Per te che tolgo Con che comando era? Oh Ho buggato tutto Che fatto? E crashava feather Sono buggato Si piantiamo i saplings Se l'ha il tono Si incazza L'altro ormai I saplings Sono diventati miei Storno con il cazzo Ah Dobbiamo smantellare La parte sopra? Io ho un blocco di terra Che ci può servire Magari per Far crescere Perché noi qui intorno Non abbiamo Di blocchi di terra No no Il grass block Proprio terra verde Questo qua guarda Si si ho capito Allora Aiutami a smantellare No no lascia Come no? No Guarda te se mi tocca Sprecare I miei diamanti Per fare Lascia Tanto ne hai uno solo Quello è il bello E lo sai qual è il bello? Ce l'ho 64 Nell'Enderchest L'Enderchest Sta a casa mia poi Ma ce l'ho anche io Che dici? Me la sono fatta Comunque sono riuscito A sbaggare I blades spawner Che si erano Rotti no? Ho tolto E rimesso Un plug in Cioè tutti i plug in Perché Mi era già capitato Una volta E si è sbaggato Andiamo Da mi lascia Si è appena sdoppiata No Bro io Io ne ho già una in mano Ma che c'è? Adesso te la togli Tranquillo Io però voglio fare questo Ma io ce l'avevo in mano Allora In editing Quando ricaricherò la live Boh Boh Non so neanche lui Ma no Io ce l'avevo in mano E poi Lo racconto Sì È un bug È un item fantasma Anche le botte Le vanno tolte Perché adesso Noi qua ci mettiamo Un blocco E poi facciamo Con la scala Un altro blocco Sì Vado a fare Delle impalcature Quasi quasi Ti impalco I Andiamo a fare Le impalcature Questo qui Mi si ammazza Dopo È colpa mia Mi vengono a dire Eh ma Il tuo Il posto Non è sicuro Perché È uno di suoi Si si suicidano Cioè Uno si si suicida Allora vai Di Cina Alla Cina Bar Perché ci stai ciulando Che ci Vediamo cosa ciula il doc No No Non mi costringere Cosa ciulerà il doc Aia Anche con la mia Ciulerò Un utilizzo Delle handel Eh ciucciami Le palle Quando star noto Ragazzi faccio Purtroppo così Il suo difetto Sì Allora Perfetto Ho piantato Anche un po' Di bambù La bamba Ha piantato lui Ok Dai ci siamo Basta rompere Dobbiamo Defixare Però Dopo la Texture Sì 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 Praticamente È una torre Che tanto Tra poco Infatti Ho aggiunto Anche queste qua Che erano Della texture Diene Ah sì giusto Le combat text Le copiate tutte Ci ho messo tre anni Copiate nel senso Rifatte a mano Non copiate così Perché sennò Era troppo semplice Le cose vanno Senti originali Più o meno Ah io sono con gli Ovviamente ho fatto Anche le scale Di stone No Se pareva Lompi queste scale Mettiamoci qui Devi rompere Praticamente questa parte E qui ci va E qui ci va La legna Tranne qui Che va aperta Adesso Ma tu sei legnofobico Adesso è fatta Va messo qua Le scale Però non girate Possibilmente Hai del bambù No Io avevo preso il cacao E non abbiamo Ippalcature Come si fa Vanno messe Praticamente le scale Dritte Ma fa niente Non le utilizziamo Ti butto giù Dell'acqua Ok Vabbè C'è uno stack Volendo E io Ne raccoglio un po' Ok Quanto ne prendo Mezzo stack Sì Ok Intanto io sono già 24 scale Aspetta A trasformarlo Sarebbe Salute in te Che sono D'Hein No Non mi ricordo più Sì Però non ci alterisco Ragazzi Cioè Io questa roba L'ho fatta Una volta che arriva l'estate Cioè Non me ne frega più Un cut Allora Ehm Aspetta A trasformare i log In Planks Perché ci servono I log Ok A quest'acqua Lo togliamo Oltre soltanto Si è incastrato Il bloccato di legno Ti ho fatto un metodo Per Come osi Toccarmi Io la derog sword Ti ammazzerò Sous 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 doxxus rizzerà la faccia l'ascensore per salire qua effetto le scale lateralmente sono un po' complicate da mettere non so se si può fare ah mi serve un po' di vetro, me lo andresti a fare ti sto già raccogliendo il legno eh vabbè il legno si vado bene o no ro-ro-ro- più o meno vaga un po' il server eh si lo vedo dal cielo perchè il cielo lo scappa ah no giusto qua non è andato ma vabbè il dock ha fatto l'ascensore che nemmeno è automatico tecnologico c'è un piano tecnologico ok qua ci vanno messi i log madonna madonna come madonna madonna mi tiro così ci sono mi ho messo paura ok così praticamente vanno messi sotto vanno rotti? no perché non li hai piazzati di qua allora? perché un attimo adesso vado a adesso è semplice praticamente che faccio qua ci metto salvo così e sopra ci vado a mettere che dici sopra ci sta stone cioè ci sta la pietra ci sta legno il tetto come lo faccio? non lo so adesso vengo su e guardo ahia ha perso una marea di vita bravo se avessi perso un oceano di vita invece eh cazzo se perdi un oceano di vita lì è difficile per avere un oceano eh comunque Bob il marinaio è cieco ma dov'è il mare? il signore dietro di lei? eh era un oceano mi fa però eh no c'è il mare il mare oceanico voglio fare anche l'elmetto da carpintiere sarebbe? eh lo texturizziamo noi ok allora i bordi come li posso fare? copie stanno su che poi in verità noi siamo ma non c'è scritto dai io volevo che c'era scritto che era la texture di microvone invece è world specific erasers eh sarà un plugin perché se no me la inserisco nelle texture e basta perfetto no dopo no va anzi facciamo così la inseriamo nelle texture dai si va solo per noi gli altri no non vorrei dare giusto per avercela qua dai e per vedo tutto rotto guardate che bello guardate che bello microonde beta l'ho anche scritto che era una beta doc ma l'alfa beta gamma delta grande ti chiede una sbranga in testa si sono loro e lo so che non abbiamo forse abbastanza l'inghia ehm quanto è SUS così? tanto più di quanto in un uomo si possa immaginare uno ha laggato il server allora allora io direi che si può demolire il magazzino che stavo facendo l'altra volta e fare qua un bunker di un chunk più grande in chiave moderna questo lo demoliamo che aspetta prima di demolire tipo guarda vieni con me aspetta che mi encento qualcosa l'albero e quanti livelli hai? 16 e io ti stilo i livelli efficienza 3 forti un 1 non sai che abbiamo le verruche possiamo fare le pozioni io me ne c'è sono incantato la armor bravo bimbo stavo incantando una grafting table bravo bimbo alla seconda non fa neanche in teoria non lo so dove sei? in casa allora devo vedere una cosa importante che non mi ricordo neanche fatto rima dove sono le mie verruche? dove? dai ma ho raccolto una marea di verruche non l'avevi mai raccolto però si ce l'ho eccole ah ma ci mancava la blitz powder eh cazzo non si può fare lo stesso possiamo andare a prenderla no adesso facciamo se vuoi te la vado a prendere io no no vengo anch'io dammi un secondo che finisco a casa mi aiuti un attimo mi dici che il tetto ci sta bene vai su per favore intanto io c'ho c'ho il vetro dimmi che non lo so in che materiale ci può star bene e lo facciamo pietra nera? cioè scusa deep slate dove la ciulo io la pietra nera? deep slate non pietra nera vabbè la roba nera è grigia la roba grigia vai a vedere se giù c'ho puoi andare a vedere se giù brocia un po' dirlo prima no puoi andare a vedere giù se c'ho della deep slate sì ma ne ho io ne ho io ne ho io penso spero eh ci serve almeno due stacks allora io farei così appena almeno intanto finisco qui vediamo se si riesce a iniziare almeno il tetto e poi si va a prendere allora hai 22 voglio fare hai ho un 10 stack 5-6 stack di deep slate ma come? ma da quando è che sono così ricco? un altro vabbè allora inizio a farmi le scale dai vado a prendere la blaze powder o no? no no ce li abbiamo insieme dopo si fa veloce tanto la cosa dai da notare che io avevo i diamanti per farmi la roba però non avevo sbatti di andarli a prendere perché non sapevo che avevi l'ender chest in casa c'è da 5 episodi l'ender chest e non te ne sei mai accorto ti sei passato 60 volte se vuoi dare il bambù chiedi pure o se vuoi prendilo ma lascia almeno la base ma sapete quanto cresce il bambù al giorno? 5 cm fossero così anche i c***i no se sono i 30 cm scusa che guardavo te che perché 5 da dove me lo sono tirato fuori che guardavo te che stavi ho sentito rompere ho detto ecca la ma non ho rotto un c***o e mi sembra dov'è l'impalcatura? impalcatura eh con la P di pane porco pane non hai punti canali attivi eh perché non ho l'affiliato basta datemelo no mi mancano i 3 spec di media quello è il problema compra dei baffari ma anche no così mi bannano da Twitch grazie che? dai facciamo un po' di scale e andiamo a finire così posso scalare Amanda? no hai notato che la la ricarica della della sword è viola il simboletto di ricarica è viola il manico ah si è vero che bellino però te non hai fatto quello al lato io uso quello al lato spesso eh non so come si fa quello accanto alla hotsbar si lo so alla hotsbar hotspotbar lol eee aspetta che devo ah fammi un po' di scale dato che ci sei scale ladder oppure no no scale di di deep slate deep slate come? io devo deep slate normale coble di deep slate? si dio buono buono ahiaia fermo fermo avevo mezzo cuore capita no per favore aspetta dai che voglio è colpa dei cinesi che ti devo dire mi hai fatto la bomba cinese oh no al suss non mi sussare non voglio venire sussato ahia allora dai ci siamo quasi ti mando a terra non ti figo su eh no me ne vado ah ti aiuto a fare la casa sicuramente mi senti non mi hai ancora dato niente da fare eh aiutami a finire il tetto prenditi la mia deep slate e facciamo il tetto la nostra la mia? no non ho capito cosa ho detto posso premere tasto sinistro no ti pago quanto vuoi otto diamanti se vi aiuti a finire casa figa sì ormai sono ricco prendi la deep slate e c'è c'era finita beh sono otto diamanti posso scendere è rotta sta merda perché sei nel punto sbagliato non da lì dall'altra ma gli scaffolding le hanno aggiunti vent'anni fa non li sei ancora usati nella bedrock anche se sei in un blocco vuoto ti puoi buttare di sotto adesso ah questa è un affronto però che significa che tu giochi troppo in meglio no ho giocato per quattro anni sulla bedrock sali da qua e poi sono passato su java edition ce l'hai così le scale dovresti aggiungere una scala lì perché sennò sì quello faccio e me l'ha fottuto Tommy dammi la metà che hai cioè dammi un po' che vengo aspetto mettiti così e appunto prossimo episodio io torno a farmare un po' di diamond ok qua così vai metti dopo la spacchiamo se mi metti un blocco sotto riesco a finire anzi no come vuoi fare qua la cima così con una slab e qui no qua io ci metterò questo questo e questo no dai ci voglio mettere il copri fulmini ce lo metto la prossima volta andiamo hai finito vieni giù dai aspetta un secondo do i 104 diamanti gli a 104 sono troppi eh un secondo che nascondo questo nascondo che cosa nasconde il doc non lo sapremo mai perché lo vede solo lui doc posso romperle le scaffold io ho già preso io mi dispiace mosca del codacca cazzo mi sono fatto un casino di danno vieni dai su che ti parla bomba in buca ti ho buttato giù la dipslate bello tieni andiamo a prendere la roba ma vi hai detto 8 vabbè va bene eh vabbè dai è la prima volta che sei collaborativo in modo corretto quindi posso posso ecco abbondazionare quanti diamanti hai adesso? 51 ne avevo uno stack 3 ti ho fatto lascia 10 te l'ho dato adesso io non lo so quanti ne ho 27 più 15 quanto fa? ehi google 27 più 15 la risposta è 42 42 non sa per fare 27 più 15 io sono passato con 8 all'esame di matematica che penso si nota bello dai ci sta non è male adesso ha più spazio questo va messo qui adesso è più bello perché posso fare qui e fare fa male andiamo vai facciamo la prima cosa la blaze powder allora io cibo ne ho vai io prendo un po' di equipaggiamento extra e arrivo ti aspetto all'entrata del nether la bella la lascio qua cap holding si perché dopo mi viene da usarli e non li voglio usare mi porto giusto niente portati niente si bravo ma non è troppo ingombrante il niente è troppo grande lo tebbino me lo porto prendo un pochino di pane e arrivo sono nel nether ok aspettami che io non so la strada quindi non iniziamo a perdere ci dice anche guarda però sono riuscito a bug no non ci credo mi ero bugato un attimo che bello che era stato sono riuscito a aprire l'inventario dentro al portale del nether cosa che normalmente non puoi fare come no se torni indietro dai 5 anni non si ma in queste versioni non puoi farle come no se torni indietro dai 5 anni si in questa versione no come no se torni indietro di 2 secondi si perché devo continuare a fare queste cavolate basta vengo io vado alla fortezza no aspettami che non so la strada buon dio eccomi dai aspettami all'entrata assolutamente no dai per favore non ho voglia di start quindi da che sono ne sto entrando adesso poi mi devi dire come si faceva lo scudo custom della texture dm perché è tutto meglio shield numero che vuoi e poi scrivi mese eh mesi bello eccomi aspetta eh shield poi scrivi sì ma tanto adesso non lo faccio perché sono in nether eccomi dove sei eccolo l'enchantale meme vabbè non so neanche scrivere ah meme mese mese giusto mese del mese per un attimo mi sembrava un piccone in legno quello del croma eh perché cambia colore ah ah croma ma questa strada l'avevamo fatta noi o è nuova? l'ho fatta io ah ah easy ok dato che hanno i target su di me perfetto ahia ha picchiato me oh oh canto male fa eh buon motivo per cui dobbiamo assolutamente no ha rotto la tua strada mi dispiace aiuto no la ripari l'ho richiamata prenditi la la stonna mannaggia ammazzato ah prese no l'hai presa tu o io non lo so ahia ahia io so coprimi 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 muoio io sono ancora guiderato uh dobbiamo star vicini per copriamo vita magari vorrei evitare di usare il nostro totem perché il nostro taratara allora e di qua andiamo agli spawner e dove sono gli spawner che cazzo ne so io andiamo vai sì ecco ecco lì ecco mi lascia più sbagliati sono dato ovvio che pareva no dove si è andato tutto dritto sono salito su ma che hai capito ma non si poteva picchiare il blaze è vero io c'ho looting 2 quindi me ne droppano più di una bene puoi aggiungere il pulsante bottone abbonati dato che no devo aspettare la media non i 3 spec li sono già anche superati sarò arrivato a 5 10 non lo so perché ho anche sbloccato gli stemmi VIP però devo aspettare la media la media adesso è 1,99 perché la maggior parte del tempo sto magari a 1 ho bisogno di genta attiva in community ecco queste vanno assolutamente nascoste queste cose blaze rods sono morto sono morto sono morto non è vero di ceneri ma mangia il totem vabbè bastano 13 si ma io vorrei aiutami qua aiutami qua tappa tappa così abbiamo lo spawner un po' più facilitato poi voglio fare urca fai critico così non fai danno ad aria sapevi che non facevi danno ad aria col critico si lo so io gioco a minecraft da 104 anni cazzo cioè tu sapevi com'era minecraft prima di che si creasse si mentre ero in guerra ogni tanto pensavo dicevo quando torno a casa voglio scioprire un po' a minecraft si si tu avevi la infdev manco la alfa no no io avevo la pro alfa dev ah la pro deficiente dev ma adesso si eleva a potenza che cos'è anche le mani si elevano eh qui ci starebbe bene il nemino quando quando lui si alza potere illimitato quello di Darth Vader non è Darth Vader Darth Vader cesso aia serve aiuto mi faccio le coordinate con lo spawner le coordinate con lo spawner che mi significa perché l'hai rotto aia mi direi quanti ne avete 16 andiamo potremmo fare anche il portale del land si si a voglia io ce ne ho tre basta un attimo ragazzi poi leggo la chat abbiamo sbagliato strada progettiamo il bunker dato che ci siamo sei andato via hai quitato la lab di marty non lo so ma ci penso di si tu non sai neanche ascoltare di qua doc no di qua no di qua ah qua c'è un altro spawner dato che ci siamo io progetterei più che altro che non un bunker un un oggetto si chiama dove sei sparito scusa ma hai girato a destra io so qua dietro 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 ma ma ti giuro mi ha fatto come a te prima mi ha dato che vedi che ti vada usa l'acqua porca aia ci sto morendo e ci ma dio c'è la ce la fai non cadere nella lava no no aspetta ti voglio far vedere una roba perché il blocco qua oh laggata è buggato ma va fan c***o sai che non è di qua vero non è qua quella è la strada vecchia io non mi fido però non è nemmeno di qua da dove cazzo ah da qua cazzo sta andando non lo so no quello è la strada vecchia da qui da qui da qui da qui da qui eh vedi che riesce a spuntare come manda come lo facciamo il bunker più che altro il bunker nel senso di è andato a fare un giretto nelle altre no ma adesso adesso lo banniamo perché ha osato andare in un'altra cioè doc ha sentito che cosa è successo io lo piccherei con il mitra no sì con questo eh 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 che c'è che c'è succede che succede dove cazzo è casa allora là che ce l'hai fatta guardando i guai ah io vorrei fare uno stoccaggio marino una statista tempo fa provai a tradurre della roba con google traduttore e la tradussi più di un cioè tre quattro volte e una frase che era guarda laggiù diventò stoccaggio marino l'ha tradotta in russo in pasto in cinese in tedesco e poi l'ha traduttura tutta in italiano è diventato la traduzione originale era guarda laggiù c'è tipo una roba adesso mi ricordo e letteralmente c'è un dibattito importante tra non hai fulisse e coso c'era scritto guarda laggiù uno stoccaggio perché guarda laggiù è diventato uno stoccaggio marino doc vado a vedere lo stoccaggio marino no dai vai a vedere lo stoccaggio marino vai tu vai tu io non ci vado a vedere lo stoccaggio io ti picco oh bro fa tantissimo danno la blazerod ma come ti giuro mi hai tolto un cuore e mezzo è perché brucia brucia papà adesso di danno la blazerod un naffulo di danno guarda laggiù uno stoccaggio marino lasciami stare vabbè andiamo a progettare lo stoccaggio marino no guarda che bello un palettiere che cazzo guarda laggiù uno stoccaggio marino dai io lo ti faccio vedere come è bello tradurre con google traduttore ok vieni un attimo con me di qua dovremmo staccare come no tra un paio di minutazzi poi dobbiamo modificare la texture per domani no prima bisogna fare la prima pozione del gioco quindi tu la mattina ci sei non mi fanno giocare parlare no ma perché hai tappato il bunker ciccio e quando sono salito come ma non c'erano le ladder ah ok no quando hai fatto il buco storto eccala dimmi una pozzetta da fare che vuoi fare ma la facciamo domani non c'è tempo no mai non ti picchio ti giuro una roba ma buono ah in teoria dovrei avere del vetro avanzato da prima 16 3 vabbè doc io direi che mi spiace però stasera a parte che è crashata una volta e mi ha fatto girare le palle sta roba allora domani che si fa si fa lo stoccaggio marino ci vediamo presto con un nuovo video sul canale ciao ciao